Edizione 2023 del premio Marciano, tanti nomi importanti dello sport italiano e abruzzese presenti a Ripa Teatina. In grande stile la premiazione è fortemente voluta dal sindaco Luciani e dal coordinatore Palladinetti, tra i premiati il tecnico del Pescara Zeman, Riedo Braida e la stella della pallavolo italiana Manu Benelli. Premio Marciano, premio prestigiosissimo, Zeman, una sua impressione? Il nome è importante, è uno dei più grandi del box, non solo italiano ma anche mondiale, sono contento. Come sta Zeman, pronto per questa nuova avventura con il Pescara? È pronto, se ci sono vuol dire che mi sento pronto, poi bisogna vedere cosa ne esce dal lavoro. Direttore Braida, premio Marciano, premio importantissimo, sensazioni? Io ho sentito parlare in televisione di un grande campione, un campione anche di umiltà, un insegnamento che secondo me abbiamo tutti noi dovuto ricevere da questo grandissimo campione. Che cosa ha insegnato? Ha insegnato che nella vita hai migrato per poter dimostrare che si può raggiungere degli obiettivi anche lontano da casa. Io sono davvero molto onorata di questo premio, di essere qui stasera perché come ho detto prima, quando ti danno un premio alla carriera vuol dire che hai lasciato qualcosa. Hai lasciato tante. Grazie. Però è sempre bello insomma ricevere questi premi sicuramente, è davvero un onore per me.